Benvenuti a Radicazione 2011 Iniziamo questo festival Speriamo che anche quest'anno ci siano molte cose da fare Un saluto a tutti Vi voglio bene Allora siamo ad all'estate del carretto Tra una ventina di minuti in Lucania Inizieranno Anche meno L'organettista Mario De Carlo Dopo tanti anni di battaglia E qui ad Alessandro del Carretto E non ci tornerò più E non ci torneremo più Scherziamo Dopo tante suonate per strada Così oggi ci troviamo sul palco centrale Ed è un onore essere qui ad Alessandro del Carretto Grazie 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 E' un sogno ragazzi, è un sogno, abbiamo realizzato un sogno ragazzi, abbattiamoci come minimo le mani, e' un sogno ragazzi, abbattiamoci bene! Evviva il mandorino! C'è bisogno di uomini! C'è bisogno di uomini! Perché? Troppe donne e gli uomini mancano, è vero Paolo? Uomini! Tutti timidi qua! Tutti timidi! Diremo di partiata e non ha più pace, non dormo, rimane che è sempre un paio, ma a sordere che si partirà! Faccio un secondo, senti ben contina a sordere che si partirà! Sì, sì, sì. prima, prima non stava più bella che prima. Uh, di questa stanchezza, non ce la farò mai. In punto di morte, guariscono miracolosamente. Un'altra stanza, non ce la farò mai. 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 Un'altra stanza. 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 Un'altra stanza.